Quello che bisogna avere a cuore è il bacino di servizio che questa stazione riuscirebbe a servire, questo è il nostro auspicio, le nostre aziende, ovviamente noi facciamo riferimento ad oltre 200.000 aziende che sarebbero toccate positivamente da questa realizzazione, ci sono oltre 10 milioni di presenze turistiche che sicuramente potrebbero essere fortemente incrementate, quindi noi dobbiamo avere a cuore questo impianto, ragionare in termini ampi, superare i localismi. Sarà un tavolo tecnico a stabilire la collocazione migliore per la nuova stazione medio-etruria dell'alta velocità, questo quanto previsto nel protocollo firmato tra Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, i Presidenti della Regione Toscana ed Umbria ed RFI, soddisfatto il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena che assieme a quello di Perugia e alle associazioni di categoria più volte aveva ribadito la necessità della realizzazione della nuova stazione. È ovvio che quello che abbiamo fatto come richiamo da parte delle Camere e quindi tutte le associazioni di categoria è stato quello di partire con questa idea, quindi una condivisione complessiva da parte delle istituzioni dell'importanza della realizzazione di questa infrastruttura, che ovviamente questa firma di questo protocollo da parte delle due regioni, che era quello che poi le Camere avevano richiesto e quindi su questo esprimiamo un'ampia soddisfazione, sia semplicemente la partenza di un percorso che ovviamente veda attraverso il coinvolgimento di tutti i territori, anche il coinvolgimento di strutture tecniche che sono deputate alla progettazione e quindi alla valutazione di quelli che sono i numeri che ovviamente i vari studi come questo che è stato citato, ovviamente poi portano già all'attenzione. Quindi quello che è importante è che ci sia un riferimento a questo punto decisivo politico, e questo mi sembra che ci sia già stato, e che venga assolutamente confermato, ma che poi si traduca in un'attività di studio fatto per portare proprio all'esecuzione dell'opera.